ciao e benvenuti in un nuovo video fova channel quello di oggi sarà un po diverso vi consiglio di guardarlo fino in fondo perché non vi deluderemo vi parleremo di accessori e zaini fotografici che adoro e che uso personalmente tutti i giorni partiamo da questo qui il tool in route da 18 litri si tratta di uno zaino da tutti i giorni pratico e versatile perfetto sia per l'attrezzatura fotografica che per portare tablet e computer la struttura safe age può ospitare in tutta sicurezza fino a un macbook pro da 15 pollici o un laptop da 14 i tablet invece al sicuro in quest'altra tasca imbottita una particolarità davvero speciale è la tasca safe zone rigida all'esterno e imbottita all'interno in grado di trasportare in sicurezza il cellulare altri oggetti di valore e perfino una compatta è comodo da portare in giro grazie al pannello posteriore imbottito e traspirante ideale anche per i biker urbani grazie ai punti di aggancio per le luci lampeggianti di movimento ora vi presento lui contrast pro dslr uno zaino fotografico abbastanza compatto in grado di ospitare una fotocamera con obiettivo montato un drone e molti altri accessori niente male no la protezione dura base invece rappresenta un altro importante punto di forza assicurando impermeabilità e sicurezza questo zaino a tasche dedicate perfette per piccoli oggetti come memory card e filtri anche l'elastico laterale può essere comodo per l'acqua o per un treppiedi qui dietro poi non manca lo spazio per un tablet e per un portatile fino a 15 pollici trovo che il contrast pro sia davvero comodo per aver tutto quello che mi serve nel minor spazio possibile un altro accessorio molto pratico che non manca mai nel mio equipaggiamento è la tulle gauntlet 3.0 una seconda pelle per il mio macbook pro chi ha nel mac un compagno di viaggio per tutti i giorni sa bene di cosa sto parlando la struttura rigida e il design a conchiglia consentono di usare il mac senza estrarlo dalla custodia l'interno imbottito e la protezione agli angoli lo rendono uno scudo efficace contro gli urti quotidiani infine vi voglio mostrare la custodia case logic barclay un piccolo portaoggetti per caricabatterie e hard disk comodo anche per l'organizzazione dei cavi sono quattro accessori versatili affidabili personalmente li trovo indispensabili e non posso che consigliarveli se li volete provare anche voi li trovate sul nostro sito ecommerce fova.it scontati del 50 per cento ma attenzione che la promozione è limitata e non lasciatevela scappare chiudiamo con una domanda qual è la cosa essenziale che secondo voi uno zaino fotografico dovrebbe assolutamente avere scrivetecelo nei commenti e se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale noi ci vediamo ogni lunedì e venerdì alle 19 con un nuovo video grazie